Fra pochi giorni è l'anniversario della strage di Bologna, era il 2 agosto del 1980, è stata la più terrificante strage terroristica di quegli anni, negli anni di Piombo, ci furono 85 morti, come di quasi tutti gli attentati terroristici non si conoscono in realtà negli autori nei mandanti, furono tanti gli attentati terroristici in quegli anni, dal 1969 ci fu la strage di Piazza Fontana a Milano fino a questa, quella con più morti, questa di Bologna del 1980, poi ci furono stragi successive, 1984, la più grande è stata la strage di Bologna, di nessuna si conoscono, i colpevoli per la strage di Bologna ci sono dei condannati, sono Fioravanti e Lamambro, che allora erano militanti di un'organizzazione terroristica fascista, si sono sempre però proclamati innocenti e ci sono fortissimi dubbi sul fatto che siano loro i colpevoli, in realtà neanche di quella strage si conoscono i colpevoli, però io volevo fare tutto un altro ragionamento, perché stavo leggendo ieri di questa strage e mi ha colpito il numero altissimo di morti, 85, e mi ha colpito la coincidenza di un altro numero, sempre 85, che è la differenza tra i morti a luglio, naufraghi nei mari italiani, immigrati, la differenza tra i primi 15 giorni di luglio di quest'anno e i primi 15 giorni del luglio dell'anno scorso, la differenza è di 85, non è che sono morte 85 persone, ne sono morte molto di più, ne sono morte il doppio, la differenza è 85, mi ha colpito la coincidenza fra i due numeri, perché della strage di Bologna giustamente abbiamo parlato per anni e anni, tutti gli anni, ci siamo interrogati, abbiamo fatto polemiche, abbiamo litigato, abbiamo condannato, abbiamo denunciato, ci sono state grandi manifestazioni, sono stati contestati i presidenti del Consiglio, ministri dell'interno, i presidenti della Repubblica, 85 morti sono davvero tanti, però questi 85 morti che sono poi il doppio degli 85, ma contiamo solo la differenza, valgono zero. Nella discussione politica italiana il fatto che in questi 15 giorni di luglio si è aumentato di 85 vite umane, vere, nome, cognome, persona, alcuni sono bambini, alcuni sono donne, c'è anche qualche donna incinta. Ah, valore zero. Ora, guardate, io non voglio fare una polemica su accoglienza, non accoglienza, bisogna chiudere i porti, aprire i porti, eccetera. A me quello che colpisce è che nel dibattito, nel dibattito sulle politiche per l'immigrazione, questi 85 morti non esistono, non fanno parte della discussione. La discussione è se conviene chiudere i porti o non chiuderli, se bisogna impedire alle ONG di navigare o se non bisogna loro impedire, tutti i temi serissimi, se bisogna aumentare l'accoglienza e aumentare i soldi per l'accoglienza o invece diminuirli, se l'Italia ha bisogno di più immigrati o invece non ne ha. Tutte cose serissime e io voglio prendere in considerazione a pari dignità tutte le posizioni. Ma che ci sono 85 morti, ve ne siete accorti o no?